Ciao a tutti ragazzi, oggi come sapevate siamo presso Livy Bolter al primo appuntamento della Lega Pokémon e come inaugurazione della Lega oggi vi introduciamo il nuovo mazzo della serie Vapori Accesi Fuoco Meccanico che vede come protagonista Vulcanion. Andiamo a vedere che cosa contiene, ovviamente andiamo a levare i blister, come in ogni confezione abbiamo il protagonista che in questo caso è Vulcanion e che ne troveremo anche un'altra copia all'interno del mazzo, la fighissima moneta che ne trae lo stesso Pokémon, all'interno abbiamo ovviamente la lista dell'espansione Vapori Accesi per chi vuole comunque spuntarsi le carte che possiede, i classici segnalini danno veleno e bruciato e per chi deve iniziare a imparare a giocare, non stiamo ad aprirlo tutto, il terreno e che dietro ha anche il regolamento. Adesso andiamo a parlare del mazzo, ovviamente non ve lo presenterò tutto in fila, ma ve lo presenterò già diviso per tipo, sia di tipo fuoco, acciaio, strumenti e energie. Iniziamo dalla parte acciaio, andiamo dalla parte base che sono le energie, abbiamo una 3, 6, 1, 7 energie di tipo acciaio. Come Pokémon, comunque ne abbiamo ben pochi, abbiamo 3 copie di Clink, seguite da 3 copie di Clank di fase 1 e 2 per Clink Clank, che è la seconda evoluzione di fase 2. Per quanto riguarda le carte di tipo fuoco, abbiamo un po' più di energie, 1, 2, 3 e 4. Ben 11 energie fuoco, comunque se dobbiamo soddisfare anche molti più Pokémon. Abbiamo 3 Pokémon base che sono le Cleo e una coppia di rivoluzione che è Pyroar, che secondo me è una delle chiavi per questo mazzo. Poi abbiamo 3 Ponita base e 2 per Raffidash. E poi hanno le abilità di Ponita, il primo tempo di Ponita, ma Raffidash non mi piace. Dopodiché abbiamo 3 Chim Char base e 2 Monferro. Qui manca ovviamente la seconda, la fase 2, però almeno una io la metterei. Finiti i Pokémon fuoco, diciamo così, abbiamo il Pokémon normale, che sono un po' potenti diciamo. Abbiamo 3 Meo e 3 Pezzi. Però è interessante per quando si inizia. Ultima parte del reparto Pokémon è il duo di Volcania, quello olografico che abbiamo visto prima e quello ovviamente semplicemente raro. Questa è la chiusura, chiamiamola così la chiusura del mazzo. E i nostri motori li troviamo negli strumenti con un Ultra Ball, un tonico evolutivo, 2 ricchissime letture del Prof e 2 ricchissime recuperi. Ovviamente non possono mancare gli aiuti. Abbiamo la monocopia di Shana, un abetto del centro Pokémon, carta nuovissima, più potente, ovviamente dopo N, abbiamo soltanto qui il Ninja Boy in due copie e ormai immancabile la doppia copia di T. Insomma, andremo a provarlo e poi vi faremo sapere il resoccomo. Io penso che sarà, secondo me, è un buon manco, ha del buon potenziale. Magari vi faremo vedere anche una lista modificata con qualche chicca in più. Per questo video è tutto, monetone, al prossimo video ragazzi, ciao!